non me l'aspettavo non tanto risultato ragazzi ma un Inter così eccezionale un Inter così convincente e un Napoli così poco convincente sicuramente per meriti della stessa Inter attenzione non è che il Napoli ha giocato male solamente perché è stato il Napoli a giocare male se giochi male è perché per quanto per avere dei meriti tuoi e secondo me qualche demerito il Napoli stasera ce l'ha è l'altra squadra che ti fa giocare male perché comunque tatticamente fisicamente mettetela un po' come vuoi in questa partita ha fatto meglio di te. L'Inter stasera è stata superiore su ogni punto di vista al Napoli ci tengo già a dire che secondo me molti sbagliano a pensare che il Napoli sta già calando perché le squadre di di Spalletti cavolo dopo gennaio io ci tengo a dire che aspettiamo a dire che il Napoli la sosta gli ha fatto male come molti pensavano perché ricordiamoci che a San Siro contro l'Inter perché l'Inter è una squadra forte non dimentichiamocelo può perdere chiunque può perdere chiunque anche lo stesso Napoli che era imbattuto e adesso non lo è più può perdere anche lo stesso Napoli non è che se Napoli perde la prima partita della stagione allora il Napoli già cala aspettiamo a dare giudizi affrettati sicuramente questa sera al Napoli poco e niente la prima occasione pericolosa vera 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 arriva all'89 con il Raspadoni Donana poi si mette la spalla a destra e para un'occasione poi tra l'altro anche abbastanza centrale però l'occasione più pericolosa a parte poi un colpo di testa nel secondo tempo sempre un tiro di Ianguissa forse deviato nel primo io del Napoli mi ricordo poco si forse Kvarskela nel secondo tempo che sterza col destro se la sposta sul mancino tiro esterno della rete però la vera parte di Donana arriva comunque all'89 con il Raspadoni per il resto il Napoli inesistente si ha fatto più per la stessa palla ha mantenuto più il Napoli in possesso del gioco però senza creare quasi mai nulla tanti errori anche tanti stop sbagliati tanti passaggi sbagliati sicuramente questa pausa ha un po' interrotto la striscia positiva che aveva il Napoli prima però ripeto non non correrei troppo il Napoli è pur sempre primo in classifica il Napoli ha pur sempre perso San Siro contro l'Inter ripeto che è una squadra fortissima quindi aspettiamo a dare giudizi affrettati però diamo i meriti all'Inter l'Inter ragazzi che è un'esima prestazione sublime di Edin Dzeko che fa un altro gol 1-0 3 punti importantissimi c'è sempre la firma di Edin Dzeko Lukaku oggi l'ho visto meglio rispetto al Mondiale non ha fatto una brutta partita anche se siamo giocati un gol davanti alla porta per quanto mi riguarda però Edin Dzeko con Di Marco sicuramente migliori in campo un Inter che parte forte a livello di pressing un Inter che ha avuto la prima occasione appunto con Lukaku che mette questo palone al centro che attraversa tutta la rigoria arriva sul secondo palo da Di Marco che in piena corsa prova a tirare la palla va alta spara attraverso però non era facile non era assolutamente facile la stessa Inter che appunto a questa occasione con Lukaku dove praticamente a tu per tu col portiere la spara alta l'Inter che comunque crea anche una bella azione palla al centro per Dzeko Dzeko prima di prima intenzione fa questa sponda per Darnian anche Darnian di piattone pieno col piattone la alza alta sopra la traversa e poi anche la stessa Inter sempre con Di Marco che poi forse era in fuorigioco forse no fatto sta che Di Marco a tu per tu con Meret Meret fa un capolavoro di parata poi annullato non annullato quello non lo so forse era in fuorigioco però lì Meret fa un miracolo su Di Marco molto bravo Meret su Di Marco però l'Inter come vedete ha creato ha creato sono le azioni che ha creato del Napoli ripeto a parte quel tiro smorsato di Anguissà dove la palla esce fuori non ho veramente nulla da dirvi mi sembra strano da parte del Napoli siccome comunque è una squadra che crea tantissime occasioni da gol di solito nel secondo tempo la musica non cambia la musica non cambia l'Inter continua a spingere e alla fine poi arriva questo gol bellissimo comunque bellissimo perché c'è una Logru apre e fa un'apertura bellissima per Di Marco sulla fascia Di Marco sulla fascia porta questo pallone mette un cross perfetto forte teso e preciso a Zeko che è in corsa piena colpo di testa due passi dove c'è anche Meret non può farci nulla colpo di testa gol di Edin Dzeko lì Rachmani un po' se lo perde secondo me Dzeko però è un'azione così tanto veloce costruita bene che secondo me non lo so comunque l'azione veramente bella dell'Inter con c'è la logo di Marco e Dzeko e così l'Inter va sul 1-0 e dopo quel 1-0 lì ragazzi l'Inter va in gestione va in gestione riesce comunque a riesce comunque a tenere il risultato senza neanche soffrire troppo poi all'ultimo ovviamente butti dentro comunque Raspadoni butti dentro Lozano butti anche dentro Simeone il Napoli con tantissime punte con tantissimi giocatori offensivi davanti ha creato qualcosina in più ma neanche troppo ripeto a parte la Spadori nel finale il Napoli non ha creato nulla brutto Napoli oggi veramente è un brutto Napoli sapete io le cose dico come stanno quando c'è da alloggiare l'elogio quando c'è da criticare e critico e oggi Napoli è stato bruttino un'Inter invece molto bella un'Inter direi eccezionale oggi ecco eccezionale perché non ha sbagliato praticamente nulla l'Inter oggi non ha sbagliato nulla e sono tre punti importanti perché comunque rimangono a meno uno a noi riprendono tre punti al Napoli che se l'Inter perde stasera può dire già ciao ciao allo scudetto non dico che il campionetto è riaperto Napoli è ancora avanti rispetto agli Inter rispetto agli Juve sicuramente il Milan è beneficio di questo risultato però ripeto Napoli non può essere questo Napoli sicuramente penso che sia solamente la prima partita in un campo difficile Napoli deve essere quello che è stato nella prima parte di stagione non deve poi cominciare a calare come fa sempre perché se no è sempre la stessa storia è sempre la stessa ma ripeto per me non è un calo totale è solamente che oggi l'Inter ha fatto un partito nella madonna era in uno stadio dove spingeva molto stadio difficile trasferta difficile l'Inter è una squadra fortissima a prescindere dalla classifica quindi ci sta anche la sconfitta con l'Inter a San Siro contro l'Inter puoi perdere non ha perso contro il Milan alla fine va a perdere contro l'Inter niente ragazzi io direi che il video può finire qua complimenti all'Inter per la vittoria lasciate un bel like se il video vi è piaciuto commentate sui commenti fate sapere un po' voi cosa ne passate appunto di questa partita qua tra Inter e Napoli voglio sapere un po' la vostra e soprattutto ragazzi anche se vi piacere iscrizione al canale che è importantissimo non costa nulla tanto basta che fate clic su iscriviti se iscriviti se costa nulla mi spanno così non so fate un ringrazio di cuore condividete il video con i vostri amici per scrivere anche loro e attivate la campanella notifiche così non perdete anche i miei prossimi video qui abbiamo anche tutto passate che sono in questione da Barifusi Channel e la link è proprio Twitter bella mamma mia grazie a tutti